SIGLA Mamma, che tipo di scienziato era, nonno? Francamente non lo so. L'ho trovata nel soggiorno. Un momento. Questa cosa è vera. Non so perché una città che non è su una linea di faglia trema praticamente ogni giorno. Che cosa è? Forse è l'apocalisse. Oh mio Dio. Non è una miniera. È un portale. Eccolo! Che facciamo? Amo quest'auto. Vai, vai, vai! Sì! Che succede esattamente? Dobbiamo finire quello che non ho iniziato. Non va bene. Ciao, bello. Like, vi che succede esattamente sui un peccato. Vai vectors